È stato un uomo che ha insegnato tanto, in uno dei tempi più bui della storia dell'Europa, ha saputo porsi al male, salvando migliaia di ebrei ungheresi, strappandoli alla deportazione nazista e alla Shoah. Si tratta di Giorgio Perlaska, originario di Como, che da piccolo si trasferì con la famiglia Maserat. Proprio quest'anno cade il 25esimo anniversario della morte e la fondazione a lui intitolata ha deciso di esaltare il suo ricordo e il suo messaggio. Quello che noi sempre ricordiamo è il testamento spirituale di Giorgio Perlaska, che è quello che ha lasciato in un'intervista dove lui dice vorrei che i giovani si interessassero a questa mia storia, oltre che sapere quello che è successo, per saper opporsi nell'eventualità che queste cose dovessero risorgere. Il programma inizia il 20 gennaio, con l'inaugurazione della mostra che da un lato rappresenterà la vita del filantro, e dall'altra rappresenterà un itinerario fotografico di Budapest, che attraverso il suo diario racconterà cosa c'era lì ai tempi del regime nazista. A questa seguiranno spettacoli teatrali al Centro Culturale San Gaetano e conferenze in cui si affronterà il tema dell'Holocausto e dei Giusti. Eventi dedicati ai ragazzi delle scuole, il cui fine ultimo è quello di smuovere le coscienze, affinché il passato non si possa ripetere.